C'è chiaro che tu ami molto le bottiglie di plastica, però finalmente oggi è arrivato il tuo regalo di Natale. Andiamo a vedere? Vieni! Ehi! E' qui! Com'è questo regalo di Natale? Fa arrabbiare amore? E non fa arrabbiare? Non fa arrabbiare? Vediamo come fa questo giochino. Oddio! 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 hai paura amore? vediamo se lo mettiamo da quest'altra parte cosa succede far arrabbiare amore questo giuntino non abbiate questo giuntino? ma che cattiva sembra un cane vero non abbiate il grande non abbiate il grande adesso il grande la città città voglio anche il gua non sto sotto non mi aspettino non abbiate non abbiate Rosattato non abbiate non abbiate non abbiate non abbiate non abbiate Mi sa che è meglio la bottiglia di plastica, vero Grace? Sì, è vero, è vero. Si incetta lì, vero amore? No, ma è troppo